Ciao bambini, oggi impareremo e conosceremo i vari cibi Allora bambini, laviamo la frutta e la verdura Laviamo bene bene Ok, adesso tagliamola Tagliamo la frutta La verdura Anche il pesce Tagliamo la banana La cipolla La carota Anch'io Piano piano Senza fretta Questo pesciolino No, la melanzana Tagliamo la melanzana Eccolo il pesciolino E questo è il kiwi Bravo! Un'altra carota Tagliamo in tre parti Mais Un'altra melanzana No, così Ecco così Un'altra cipolla Questa è la ciliegia Le ciliegie Ecco Bravo Dai, facciamo un bel panino Pomodoro, carne, insalata Cosa va prima? Mmm Yummy, yummy Buona questa carne Adesso prepariamo un panino Pane Formaggio Carne E adesso cosa facciamo? Prepariamo la pizza Ah no, è già pronta Va bene, condiamola Cosa ci mettiamo? Olive Salame Cipolla Pomodori Broccoli Patate E gamberi Buona questa pizza Prepariamo un altro panino Panino vegetariano Pane Formaggio Pomodori Insalata Pane Buon appetito Pane 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 Grazie Pane 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 Grazie a tutti.